Sono Federico Danovaro e sono il difensore centrale della Sampdoria Under 16. Ho iniziato a giocare nel Fijempa quando avevo solo 9 anni e questo qua è il sesto anno che faccio parte della Sampdoria. Subito ho affrontato diverse difficoltà che mi portavano ad essere molto tesa nelle prime partite quando ero piccolo. Per fortuna però, grazie al primo mister, ai compagni che si sono sempre rivelati bravi nei miei confronti, sono riuscito a superare queste difficoltà, a essere sempre meno tese, sempre più tranquillo durante le partite fino a riuscire a giocare al meglio per questa maglia. Io sono arrivato come centrocampista però dal primo allenamento del primo anno della Sampdoria sono stato messo a difensore centrale. Il giocatore che secondo me, cioè che è il mio punto di riferimento da difensore centrale, è Sergio Ramos del Real Madrid per appunto il carattere che ha, come gioca, la tranquillità, secondo me lui è il top da cui sperare. Silvestre è un difensore centrale, è il migliore perché comunque in ogni partita mette tutto quello che ha in campo, non mola mai. L'anno scorso abbiamo avuto come mister Pastorino, che tra l'altro noi abbiamo avuto anche tre anni prima, quindi è stata la seconda volta e io personalmente come tre anni prima mi sono trovato molto bene, abbiamo affrontato un'ottima stagione, per sfortuna comunque in precisioni nostre verso la fine non siamo riusciti ad arrivare primi a vincere però comunque abbiamo fatto un grande anno, essendo arrivati anche alle finali per lo Scudetto. Quest'anno è proprio l'inizio, le prime due partite non sono andate bene, però contro Juve e Empoli abbiamo perso entrambe le gare però a parer mio abbiamo giocato meglio le prestazioni, invece sono state ottimi, i risultati un po' meno, però vabbè, però partita dopo partita ci stiamo migliorando, arrivando a questo punto che appunto non abbiamo più perso se non quelle prime due partite ed essendo in classifica posizionati a due o tre punti dalle prime in classifica. Il sogno sicuramente è quello di vestire la maglia della Sampdoria prima squadra, appunto essendo anche tifoso da quando sono nato e il sogno comunque è sempre di diventare un calcettore professionista. Grazie a tutti!